Sono i tuoi veri genitori, ti vogliono bene, ti aspettavano. Sono qui perché mia madre sta male, ma lei non sa come sta. Quando ne tiene? 13. Ma perché non posso tornare a casa? Che vi ho fatto? Che fai? Sto scrivendo un racconto. Di che parla? Tieno come me. Siete pronti? Tranquilli signore, non ti succede niente. Domani andiamo al mare. Però non ho avuto a controllare se mia sorella è Stabone. Lei è della città. Ma che ti pensavi? Che ti riprendeva? Vuole solo proteggermi. Dov'è? Ripeto, chi lo sa? Prendi ancora le favole. Domani è un altro giorno, si verrà.